Carmen aveva 50 anni quando vide nascere Rodrigo, guardò il neonato e disse ecco l'uomo della mia vita, passò il tempo, prima di andare militare Rodrigo disse a Carmen devi essere mia, lei arrossì, poi fuggirono in una notte senza luna, tanto al buio non si vedeva, lui aveva 21 anni e lei 71, davanti al fatto compiuto i genitori di lei ormai compromessa, dovettero dare il loro consenso, eh sì, in certi casi l'amore è cieco, sordo, muto e anche un po' deficiente, comunque auguri e figli maschi, si fa per dire.